Il mio obiettivo è sicuramente cercare di dare il meglio in questa competizione come cerco di fare ogni competizione. Certo per me è una nuova esperienza quindi anche una grandissima emozione ma cercherò comunque di vivermela al meglio creandomi dei bellissimi ricordi per un futuro perché comunque sarà la mia prima Olimpiade e me la voglio godere a pieno. L'abbiamo intervistata circa due settimane fa presso l'area di tiro di Laterina Pergine in preparazione alla sua prima Olimpiade. Ora Martina Bartolomei si trova invece a Parigi alla vigilia della partenza di un'avventura che la porterà a gareggiare nella sua disciplina il tiro skit sabato 3 agosto alle 9 del mattino nelle qualificazioni poi l'eventuale finale domenica 4 alle 9 e 30 insieme a lei Diana Bacosi campionessa olimpica nel 2016 a Rio e medaglia d'argento a Tokyo. La tiratrice di Città della Pieve darà quell'esperienza che a Martina manca e che dovrà assimilare presto in una disciplina che si basa tutta sulla concentrazione e sulla gestione delle emozioni. Martina, nata e cresciuta a Laterina, si è dimostrata serena prima della partenza per Parigi. Lei che ha iniziato, grazie alla passione del babbo per la caccia, un'avventura che fra pochi giorni la porterà nel palcoscenico più grande dello sport mondiale.